bentornati ragazzi sono rohan e vi do il benvenuto su gizia 4 sulla mod lspd first response versione 1.1 iniziamo il nostro portugliamento ragazzi siamo già in chiamato adesso siamo già in servizio se non ero ragazzi mi hanno detto che hanno aggiornato la la versione di questa mod qui dalla 1.1 versione di però non solo con non so però se non ho controllato però mi hanno detto così poi andremo a vedere in casa e sospettiamo una chiamata dalla centrale noi stiamo andando un po in giro vediamo di magari fermiamo un'auto giusto per controllare fermiamo questa ok ci mettiamo qui facciamo m così blocchiamo il traffico ci avviciniamo ok che mi avvicino quasi blocca ok facciamo f12 facciamo f9 così ci da la patente vediamo un po controlliamo tutto chiamiamo direttamente dalla radio senza andare ogni volta nella macchina a controllare col col computer della macchina vediamo un po aspettiamo allora no è tutto a posto ok magari faccio una cosa faccio scendere dall'auto lo perquisisco vediamo un po se ci sarà qualcosa facciamo f9 un tipo così con un macchinone del genere penso prende droga o armi vediamo un po vediamo non ho trovato niente niente quindi non ci resta altro che per rilasciarlo facciamo rilasciarlo facciamo rilasciarlo facciamo f11 torna nel tuo veicolo ok facciamo rispondiamo sia la chiamata andiamo direttamente la chiamata abbiamo il blocco stradale qua andiamo nel luogo del diritto diciamo ci sono stati scontri a fuoco mi sa vediamo il mio computer sta esplodendo sento un rumore ok dobbiamo investigare qui è un casino adesso ok allora chi ha sparato chi ha sparato chi ha sparato chi ha sparato ho sentito sparare chi è stato ah eccolo 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 andiamo 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 sono qui dove sono ah sono la sopra ok sospetto perso vabbè so che sono qua eccoli là ok devono stare qua eccoli 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 chiamiamola centrale ci serve supporto lo svuot devi venire la svuot qui porta 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 merda devo avvicinare mi abbasso oh non spara sono morti tutti si ok andiamo 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 continuiamo la zona ok eh ne manca oh 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 stai giù ma che cazzo armando sparano ma da dove da qua no è qui 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 il sospetto dov'è 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 oh ecco lì morto morto anche lui dai 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 è la svuot sono arrivati gli inforzi ok sono molti tutti sicuramente qualche gang due gang rivali si sono affrontati a colpi di arma da poco ehm e niente abbiamo ucciso tutti ragazzi torniamo alla nostra macchina ok li sospettiamo la prossima chiamata intanto leviamo le sirene facciamo entrare il nostro collega e andiamo 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 vabbè questa è una parte della città non tanto malfamata quindi dovremmo andare magari vediamo un po' se allarghiamo ci andiamo che so più o meno qui vediamo se andando da questa parte ricevo più chiamata non lo so di solito nel gioco lì è la parte più malfamata non in quel punto dove ho messo io però di solito dove dove abita niko belic più o meno cioè il cugino andiamo da questa parte una chiamata tutte le unità cipili rapporto di armata fuoco poi una cosa del genere ma dove? ok deve essere da questa parte ok andiamo intanto andremo un po' più avanti da quella parte di città in seguimento in seguimento dove 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 ah ecco no vabbè dai oh 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 richiedo supporto del SWAT oh la SWAT ecco lo sto attento che il gioco crash ogni tanto dai giù sparo in testa sono morti tutti che macello ragazzi che macello vabbè ragazzi abbiamo risolto questo caso quindi torniamo in macchina nulla di così complicato si è risolto in un battipeleno oh ma lo vede questo vabbè non lo fermiamo perché giusto perché sto andando dall'altra parte della città mi devo sbrigare oh 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 qui no ok siamo arrivati ok in questo quartiere vediamo un po' se ci arrivano chiamate possiamo anche levare il il blocco diciamo ok ho rotto la macchina vabbè qui c'è ah eccola cambiamo auto parcheggiamo qua magari ecco scendiamo prendiamo questa ok allora ragazzi vediamo un po' se ci arrivano chiamate devo centrare il computer ovviamente delle chiamate come cazzo si fa ma me lo accendo sopportare vabbè allora droga qualcuno sta venendo droga mi sa si oh che cazzo ho fatto vabbè dai accendiamo le sirene vediamo dove stanno venendo droga vediamo un po' se sta già succedendo un macello non penso di solito questa parte di città no è più incasinata però non vorrete le cazzate ok siamo arrivati vediamo un po' della situazione magari chiediamo il posto della nostra arrenditi 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 scendì 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 due ragazze è andato scendì butta arma butta l'arma si chiama molto ok andiamo da quell'altro dove sta dove sta gli swat devono ancora arrivare ecco l'ecco l'ecco è lui si butta l'arma butta l'arma morto ok sono morti tutti ragazzi benissimo allora ok possiamo tornare nella nostra auto nostra gente che fine ha fatto eccolo andiamo che cazzo succederà vabbè vediamo se controlliamo un po' la zona di solito qui spacciano quindi basta controllare e vedere se possiamo anche perquisire la gente comunque facciamo una bella cosa facciamoci una bella passeggiata a posto veloce ovviamente levando la pistola se no scappa la gente ok vediamo un po' questi qua non penso che spacci no qualcuno più sospetto come no quello no vediamo un po' qualcuno può essere sospetto quello sta scappando perchè sta scappando questo fermiamolo vediamo perquisiamolo no facciamoci dare prima i documenti F10 eh si l'ha dimenticato perquisiamolo vediamo se se ha qualche cosa con sé nulla vabbè facciamo una cosa arrestiamolo perchè non ha i documenti quindi andrà in centrale poi la esoccuperanno gli altri chiamiamo qualcuno di pattuglia e noi andiamo via ok torniamo sempre a questa zona qui anzi facciamo una cosa spostiamoci da questa zona magari andiamo in un'altra zona visto controllo che non crash il gioco perché se non arrestano il tipo allora qualche rapina qualcosa del genere io controlliamo che arrestino il sospetto vediamo sì vabbè la stanno arrestando andiamo dove ci hanno segnalato la chiamata dovrebbe essere qua vicino eccolo lì qualcuno sta rapinando una persona penso dovrebbe essere qui la vedo eccolo sta scappando sta scappando vendi l'auto vendi l'auto sta scappando facciamo di qua arriviamo si vede se no vediamo un po' eccolo 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 sta scappando chiamoli a ruota no tentiamo di non si vuole fermare ok dai le ruote le ruote sono andate dai dai ok facciamo la manovra ci riesce dai ok è morto giusto si è morto speriamo il testo per non farlo soffrire diciamo che è morto ok arrivato all'ambulanza ormai è andato ormai è andato ok arriviamo la sirena facciamoci un altro giro magari facciamo una cosa andiamo qua dentro e fermiamo quel tipo che le sta proprio lì in fondo ok ho rotto l'auto vabbè ok vediamo un po' magari ha delle armi con se chi lo sa vediamo la pistola ovviamente fermiamola oh 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 sto scappando sto scappando mi andiamo a mettere il taser dove sta eccolo lì fermati 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 sei in arresto forza stavi scappando sicuramente ha delle qualche droga qualcosa con sé però non non l'ho perquisito quindi perché stava già scappando lo prendiamo lo mettiamo lo portiamo noi in centrale ok la facciamo entrare dentro entriamo dentro e lo portiamo nella vicina stazione di polizia però questo qui che cazzo sta facendo entra dentro dai ok allora andiamo oh 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 dove possiamo andare spazio magari se andiamo da questa parte facciamo una bella cosa scendiamo le sirene visto che abbiamo un sospetto cazzo boh ok andiamo a dritto vediamo un po' se qui c'è qualche stazione di polizia non mi ricordo ok oh 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 huevo è unbers�� oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.